Non è stato un voto all'unanimità perché alla fine 12 hanno detto sì, 8 no, però quello che contava per i comitati che hanno sposato il progetto Pro Catania e che il Consiglio Comunale dicesse sì. Certo, è stato un parto travagliato, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Questo è il trionfo della democrazia partecipata. L'iscemi come Gioia di Pesce Terminera si rappropria della propria storia, del proprio destino e adesso completeremo il progetto da cui siamo partiti in maniera più forte di prima. È chiaro che il lavoro che abbiamo fatto finora non è finito, ma ce ne sarà ancora uno più grande perché adesso dobbiamo guardare in prospettiva e già i comitati sono tutti d'accordo nel vedersi ancora, nel collaborare ancora per creare dei motivi di sviluppo di questo nuovo ambito territoriale. È chiaro che aderendo alla città metropolitana di Catania le opportunità si ampliano. Vedi per esempio il fatto che c'è la possibilità di attingere ai fondi comunitari bypassando la regione siciliana. Adesso non ci sarà più bisogno di passare alla regione siciliana per attingere ai fondi metropolitani. Ma non è solo questo, si è capito anche in questo caso che la città metropolitana ha molte più funzioni rispetto ai liberi consorsi, quindi offre molte più opportunità di sviluppo. Grazie a Dio è andato tutto bene, siamo tutti felici, siamo tutti contenti, ma è chiaro che non ci fermiamo qui. Oltre a Gela e a Piazza Merina la città metropolitana di Catania si allarga anche con la presenza della cittadina niscevese. Il parto è stato veramente difficile, però è stato ricco. Ho apprezzato assolutamente anche gli interventi dei consiglieri che poi hanno votato per il no, apprezzabili per molti aspetti. Ci hanno dato anche dei motivi di riflessione, però anche in questo comune non avevamo dubbio che il fronte del sì fosse assolutamente preponderante. 12 con 8 non è preponderante. Sì, ma voglio dire c'è stato un consigliere che all'ultimo minuto ci ha ripensato, questo sinceramente ci dà un po' da riflettere, però noi abbiamo sempre rispettato l'assoluta autonomia e libertà del Consiglio Comunale, dei singoli consiglieri. In questo senso, devo dire, noi, anche quelli che hanno espresso parere negativo, abbiamo apprezzato la serietà dei ragionamenti, la coerenza anche rispetto alle proprie espressioni di voto, ma ribadisco, anche se sono semplicemente 12 su 8, la legge consentiva anche solo con 11, noi siamo andati oltre 12 su 8.